Tutti noi esseri umani dovremo aiutarci sempre, dovremo godere soltanto della felicità del prossimo, non odiarci e risprezzarci di un altro. In questo mondo c'è posto per tutti, la natura è ricca e sufficiente per tutti noi. Voi avete l'amore dell'umanità nel cuore, voi avete il potere di rendere questa vita libera e magnifica, di trasformarla in un'avventura meravigliosa. Combattiamo tutti per un mondo nuovo, un mondo giusto, che dia a tutti un lavoro, ai giovani un futuro e agli anziani la sicurezza. Combattiamo per liberare il mondo, eliminando confini e barriere, eliminando la vedità, l'odio e l'intoleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Uniamoci tutti! È il buongiorno di un'umanità ritrovata. Viviamolo insieme. Lavazza, Torino, Italia, 1895